Una cosa molto importante, fondamentale. Di che squadra sei? Sono della Juventus. Te pareva. E lei? Per chi tifa? Ma però dammi del tu che mi viene l'ansia altrimenti. Non ci riesco. Vabbè, ma uno come me secondo te di che squadra può essere? Secondo me lei è laziale. Scendi. Su queste cose importanti non si scherza. Voi, Juventini, mi avete turbato l'infanzia. Se un arbitro del quale non sto a dire le complesse vicende coniugali non avesse annullato un gol regolarissimo di Turone, nel 1981 la Roma avrebbe vinto il campionato e la storia del calcio italiano sarebbe stata completamente diversa. C'avevo sei anni, non mi sono mai ripreso. E c'è pure chi dice che sono ingrassato così per questo trauma. Turone era in fuorigioco. È dimostrato. Ora possiamo andare? Grazie. No!